una riedizione in chiave green di quello che erano le vecchie rottamazioni. Questi interventi possono andare bene in una fase di emergenza, ma deve essere limitata. Come ho detto prima, non tutti funzionano. Un bonus famoso è stato i famosi 80 euro di Renzi che questo governo ha rafforzato e confermato. La Banca d'Italia ci ha già detto che su 10 miliardi spesi l'incremento dei consumi è stato di circa 2 miliardi. È tutto a debito di nuovo, quindi alcuni bonus funzionano più di altri, altri lo sappiamo già che non funzionano e dispiace vedere che vengono riconfermati ed anche rafforzati. Ora, se noi vogliamo dare un impulso nuovo a questo Paese, la prima cosa che bisogna fare per fare una transizione dall'emergenza al rilancio, al famoso recovery, è ridurre l'incertezza. Questa è la parola che ha utilizzato il commissario Gentiloni ieri. Bisogna ridurre l'incertezza per rilanciare i consumi e far riprendere l'economia. Qual è l'incertezza maggiore in questo momento? Quella sanitaria. Come si riduce l'incertezza sanitaria? Attraverso risorse. Abbiamo bisogno di molte risorse. Su questo Gentiloni è stato chiarissimo. Il recovery fund non arriverà prima dell'anno prossimo. Le risorse che sono disponibili oggi per la sanità sono quelle del MES, 37 miliardi. Davvero stupisce, e questo forse lo si può chiedere all'esponente di 5 Stelle, che si continua a giocare sulla salute dei cittadini dicendo di no in maniera ideologica. Non ci sono altre possibilità in questo momento per mettere le scuole in sicurezza e posti di lavoro in sicurezza. L'Europa ha pensato a uno strumento che si può utilizzare domani mattina. Ciao Rambino. Grazie a tutti.